non continuiamo perché rim- wow! era una balena! c'è inghiuttiti la balena con il Pinocchio? eh come ho fatto a non negare? e beh ci sta sims legit allora nuotiamo direi che un altro pezzetto possiamo registrarlo ancora non credo di aver fatto tanto di registrazione ok ma andiamo a destra o a sinistra prima di andare a destra no però una persona normalmente andrebbe a destra quindi io vado a sinistra magari c'è qualche segreto qualche roba strana ah devo usare le bollas qua uh c'è uno spettrino ok spettrino? dove sei finito? l'ho visto? una vita di sussistenza ora vediamo qua no non voglio nuotare più veloce non voglio ah ok c'è un altro spettrino sono dei calamarini spettrino? cos'è? no girati dall'altro lato spettrino? ma quello che prima morivano andando nell'acqua adesso possono andare nell'acqua quanto vogliono ma mi manca qualcosa mi sa forse devo rompere quest'altro ghiaccio di qua anche no ah là c'è uno di quegli affari forse uno di quelli che... no colpiti con le bolle non ci salgo di qua forse bisognava... bisognava... effettivamente sulla destra perché la volpina non viene? no sulla destra non si va da nessuna parte almeno che non debba andare sotto no adesso c'è qualcosa in cui la volpina si può rampicare ah qua c'è lo spiritello ok ma ah no ok salgano una no volpina perché sei scesa? sei scema ok ma volpina devi fare lo stesso discorso ma di là ok no 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 come faccio a farla salire? lo spirito ne sparisce se me ne vado forse devo fare una cosa molto eh no si devo comunque riuscire a passare da uno all'altro in quel modo ho capito adesso come funzeca ma mi ci vorrà un attimino di timing allora innanzitutto giriamo in una dalla parte giusta poi con la volpe andiamo sull'altro ok se selezioniamo in una non dovrebbe sparirci il passaggio insomma ok mo ah c'è anche l'acqua dall'altro lato probabilmente quindi possiamo andare di là andiamo zitto e nuota nuota e nuota zitto e nuota nuota e nuota zitto e nuota 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 ah no no sono scemo non dovevo andare di qua dovevo andare dall'altro lato infatti la volpina si è fermata e mi dice ma che stai a fa' sei sce ma no volpina ti è rifermata giusta adesso vai dalla parte sbagliata qua c'era uno spiritello eccolo va che bellino ma dove vai scendi giù spiritello no mi servi giù uh riesce a salirci ok no eh ma la volpina come ci sale adesso oh ok potrebbero salire tutte e due così ottimo non una no mi sa che serve di nuovo la volpina qua no ah no deve passare di qua ok ciao spiritello ah dobbiamo andare di là ah mi dava un passaggio più vicino qua wow eh ma mo come ah dobbiamo andare di là e prendere il cosino per una eh se scendo giù mi seguo l'affarino no no mi ha mica seguito l'affarino pezzente no vai vai oh ok ok grazie del passaggio spiritello che giro devo fare allora perché allora ok non da qua mentre sono su no aspetta yes ottimo ma questo spiritello dove se ne va scusa dove va ma io ho bisogno di più in basso bello dove aspetta ma porta solo la volpina ah devo farmi seguire da sta farino vieni affarino non calmati un'altra no no non colpire la volpe colpisci dove è andato la farino volpe torna indietro non colpisci no non colpire la volpe vai su la farino ok cosa ah c'ho un tizio che sale uh ma guarda che zona parkour questa e mo ah e mo devo salire su questo spiritello qua ok non riesce a salire ottimo e mo eh devo fare la stessa cosa di prima mi sa non ha ok eccoci mannaggia e mo ah c'è già lo spiritello ottimo ma com'è che il volpino non può salire eh eh no ui allora che scherzi sono questi ah no ok si che sale no ottimo allora non ok e così oh ok ok saliamo no no non non devi salire è possibile che debba fare sempre tutto io mh voilà non volpino dove si è andata mi sa che dove fare le due cose qua ah dovevo spostarmi con la volpe la volpe da sopra che attivava il tizio da sotto si mi sembra abbastanza chiaro allora vai volpino ecco non accade di sotto ma il volpino allora vai qua volpino poi non la vai qua no porca miseria mi sono spostato su una troppo poco in fretta e quindi è successo il patatrack mi sa che questo video verrà lungo alla fine perché allora ah ma com'è che ora c'è salita tranquilla nuna no vieni qua cioè l'ha fatto tutto da sola credo che sia un bug tecnico eh no infatti nuna non ci passa di qua ma ora eh sì è un bug quindi per forza devo farla tornare in giù di là scendi scendi giù volpino vai giù dove dove stenda nuna se fai un passo in più ti ammazzo no ti ammazzi tu più che altro ok no aspetta se se sto metà riesci a prendere tutte e due sì dondola con la corda è un braccio ecco scendi un po' più in giù ottimo così abbiamo più spostamento ottimo ok beh ottimo ci siamo arrivati con un po' al pelo ma allora qua c'è il tizio che si arrampica no tizio che si arrampica devi devi scendere più in giù ce la fai scendere più in giù sì tizio ok oh volpino uh al pelo mannaggia mi piace però sto pelo cioè nel senso è molto bello e poi secondo me in coop rende da morire cioè alla fin e ora dove dobbiamo andare ah oddio allora vai là non so se anche il volpino può farlo il volpino riesce a fare anche la stessa cosa mi sa di no allora andiamo con una magari bisogna fare le due cose separate come un attimo fa spongo di sì dove va il volpino sotto ah ma i guffetti ci sbloccano le cose mai l'avrei detto dove dobbiamo andare mo sotto no non ci provare non ci va va che non torni più a casa eh non torni più a casa te lo dico hm dove dobbiamo andare zitto e nuota 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 che dolce che ero adori quando canticchiavo questa canzoncina mi sa che dove è andato qua ma proprio si è bugato il volpino oh riesce a uscire oh mannaggia si era bugato a bestia proprio poi c'è dell'acqua che corre cola cade però non posso salire di qua mi sa che ah guarda c'è un affarino là ma riesco a beccarlo eh si vabbè se giro dall'altra parte di sicuro no allora l'ho visto eh vabbè ci sta che le bollas fermino c'è che l'acqua fermi le bollas ma il volpino riesce ad arrampiccarsi qua dubito eh no infatti come Kaiser what am I supposed to do ah no ok spe spe non avevo guardato bene sto pezzetto va che storia va che parkour il genio del parkour ok allora di qua cosa ah ok salta di là aspetta voglio prendere l'altro collezionabile adesso che ho scoperto che sono nuotando nella storia ah ok più ne sblocco più mi da achievement probabilmente non so se avete visto ma su in alto è apparso ma come si è bugata male che Kaiser di glitch è sta roba oddio inizio ad aver paura oh santi inubi cos'era quella roba ok ah c'è l'affanino arrampichino ok andiamo di qua ah va che storia sì se mirassi meglio vai spacchiamo tutto facciamo uscire mi sa di sì c'è cutscene cutscene nuna è rimasta un po' tramortita direi che per questo video possiamo concludere qui anche perché credo che sia durato abbastanza occhio croce sì infatti 30 minuti porca ad una miseria mi sa che forse lo spezzerò metà forse l'avrò spezzato metà io vi auguro una buona giornata vi invito a lasciare un mi piace un commento qui sotto e iscrivetevi se per caso non lo avesse ancora fatto noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti